Potrebbe finire domenica prossima, in Spagna, l'occupazione di Puerta del Sol, cominciata a Madrid tre settimane fa. Una decisione in tal senso è stata presa al termine di una lunga assemblea, durata fino a nottefonda. Un piccolo gruppo di manifestanti, tuttavia, ha detto di voler continuare l'occupazione ad oltranza, ma resta da stabilire con quali modalità. Gli animatori delle iniziative si dicono soddisfatti dei risultati ottenuti. Ormai si è creata una rete di sostegno nei quartieri, lì stanno lavorando e il movimento continua la sua attività, dice questo ragazzo. Forse chi vorrebbe restare accampato avrà difficoltà a farlo, con tutte queste pressioni a dover dire sì o no. Oltre che a Madrid, anche a Barcellona la scelta è quella di chiudere con l'occupazione, considerata, come hanno detto molti in assemblea, uno strumento di lavoro e non uno scopo in sé. Tutti però ripetono che il movimento, che ha rimesso il destino dei giovani al centro dell'agenda politica spagnola, non si ferma.